Come è necessario fare un punto con l'amministrazione e con la sindaca per valutare quello che è successo negli ultimi giorni e quali sono i passaggi procedurali a nostra disposizione per cercare di salvaguardare il progetto su cui abbiamo lavorato per tanti anni. Noi chiaramente partiamo da quello che ha affermato la Procura di Roma, ossia che gli atti della procedura apparentemente sono tutti validi, tuttavia per maggior sicurezza nostra dei cittadini, dell'amministrazione e dell'impresa avvieremo immediatamente una verifica di modo tale che se questa verifica darà esito positivo si potrà continuare con il progetto. Chiaramente confidiamo nella magistratura per tutto il resto, noi vorremmo continuare a proseguire questo progetto nel solco della legalità, quindi questa verifica è ulteriormente garantista per un progetto che effettivamente è molto importante. Assolutamente.